Quando è iniziata a cimentarsi in questa nuova realtà, poco più di una manciata di anni fa, il futsal non era altro che il modo migliore di smaltire in compagnia al sabato pomeriggio la settimana lavorativa appena trascorsa. Eppure fonti certe affermano che al suo primo anno di attività, al termine della gara in trasferta, i dirigenti della squadra avversaria si complimentarono con lui, chiedendo alla dirigenza bitontina da quale squadra provenisse. Con un sorriso figlio del più genuino sarcasmo e con poche ma veritiele parole, il dirigente affermò che quel giocatore, fino a qualche mese fa, era uno dei tanti amatoriali innamorati di questo sport che aveva scelto di sposare quella causa ancora cerba e poco conosciuta, ma che si stava dimostrando una piacevole e sorprendente sorpresa. Un percorso di crescita personale e di squadra che col passare degli anni hanno fatto del bitontino doc Dario Orlino tuttora una piacevole e sorprendente sorpresa. E' lui, infatti, una delle rivelazioni più belle di questa stagione del futsal bitonto 2019. Dalla sicura affidabilità in campo, della grandissima professionalità settimanale durante gli allenamenti e della massima umiltà a livello caratteriale, il bitontino doc è riuscito a ritagliarsi spazio all'interno del roster guidato da Mr. Pietro Di Bari, raggiungendo l'abice nel periodo a cavallo fra novembre e dicembre, in cui le prestazioni del centrale Nero Verde, assieme a quelle dei suoi compagni, sono state decisive per dare vita ad un campionato sin qui fantastico. Dirigente in campo, con una tranquillità nelle giocate e fila da grandissima esperienza, il centrale Nero Verde è un autentico jolly dal punto di vista tattico, quel suo essere duttile che in questa stagione l'ha portato anche a fare il pivot con ottimi risultati. Ma, se vi abbiamo detto che Dario Orlino ancora oggi continua ad essere una piacevole e sorprendente sorpresa, è semplicemente perché il centrale Nero Verde è in grado dal nulla di mettere da parte quella dirigenza e mestria di movimenti tattici per estrarre dal cilindro giocate e gol meravigliosi che gli sono valse otto reti stagionali fin qui e che hanno lasciato a bocca aperta tutti gli addetti ai lavori. Quelli stessi addetti ai lavori che fine qualche anno fa, quando gli chiedevano da cui scuola provenisse, rispondevano con sarcasmo che Dario Orlino non era altro che un giocatore amatoriale che aveva sposato una causa ancora cerve sconosciuta, ma che si stava rivelando una piacevole e sorprendente sorpresa. Grazie